un video un video o foto e con le mani secondo me Sì, ma buttarlo a tasso, la palla. Tanto oggi si arrabbia fino al passo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Che grande! Perché fai? Mi metto di frutta, che è mazzurrava, che è fredda e cosa? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma vai, come si rilla, bravo? Non si rilla. Ma allora colpite i peschi. Coppite un ferro! Sì, per la punta di più su, lo dici. E' andata? il salpiccio l'ho visto c'ha dei polpastellini l'ho visto c'ha dei polpastelli il salpiccio l'ho visto c'ha dei polpastelli il salpiccio l'ho visto c'ha dei polpastelli 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.